È una scommessa vinta nonostante i tempi siano cambiati. Umberto Panerai è lo storico libraio di Via degli Alfani a Firenze. Tra questi scaffali c'è la storia di una vita, di un sogno di un ragazzo che lasciò l'università per dedicarsi al commercio dei libri, la sua passione. I sacrifici per un fondo acquistato subito dopo l'alluvione che colpì Firenze il 4 novembre del 1966. Ogni giorno è stato dedicato al lavoro. Panerai ci racconta di come le librerie fossero un punto di riferimento per gli amanti dei libri, per gli studiosi. Sempre stato un grande lettore, poi avevo lavorato per una casa editrice per guadagnare qualcosa mentre facevo l'università. Quindi il piacere del libro è stata una cosa giovanile, goliardica diciamo. Ed è diventata invece una cosa importante perché siamo conosciuti in tutto il mondo. Noi abbiamo clienti in tutto il mondo, dalla Russia agli Stati Uniti, Francia, Germania. Nei periodi d'oro avevamo tanti clienti per esempio nell'America Latina, soprattutto per i libri giuridici perché le loro costituzioni sono improntate alla nostra. Oggi il testimone passa alla figlia Serena. Non è semplice destreggiarsi tra i colossi come Amazon o la vendita dei libri online. Ma la libreria resta sempre un luogo di cultura dove si può sfogliare, confrontare ciò che si va a scegliere. Cerchiamo di selezionare i libri, tutto quello che è nel negozio l'abbiamo scelto noi. I clienti vengono perché trovano quello che non troverebbero in una libreria di catena o in un supermercato. Non seleziono solo io per i miei clienti, ma anche il cliente deve selezionare anche per un esame universitario. Se c'è una scelta di 12 libri, vieni in libreria, te li guardi e in base ai libri che scegli l'esame avrà un esito piuttosto che un altro. Tanti invece se ne dimenticano, ci sono tanti ragazzi che mandano i nonni, i genitori. Ma come si fa? Dobbiamo riappropriarci anche della nostra indipendenza. La libreria serve anche a questo.